Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Devo dire la verità, mi siete mancati la scorsa settimana perché sono riuscito a fare soltanto un video di analisi lunedì e poi il blog della Coinference che ho pubblicato nella giornata di venerdì. Oggi facciamo analisi ciclica e analisi tecnica di Bitcoin, Binance ed Ethereum. In particolar modo è importante oggi focalizzarci su una ipotesi che si sta configurando sui mercati, che a me non piace molto. Sono da circa due settimane che analizzo la situazione di Bitcoin e analizzo questa possibilità che non vi piace ragazzi perché in effetti dà come target di mercato per quanto riguarda la cripto più famosa del mondo un prezzo che ha una bella distanza dagli attuali livelli cioè un prezzo target di almeno 5.500 dollari entro anche poco tempo. Quindi oggi facciamo questa analisi, andiamo a vedere il perché di questa eventuale possibilità e alla fine del video vi dirò anche come sto gestendo io la mia personale posizione sui mercati su Bitcoin in questo particolare momento. Prima di andare sul grafico però vi chiedo due cose. La prima di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto la seconda, molto importante, scrivetemi nei commenti quello che state facendo. Quali sono le vostre opinioni sul trend di Bitcoin e sull'andamento dei mercati delle cripto da qui al prossimo mese, come finiremo l'anno. Bene ci troviamo davanti al grafico di Bitcoin, mi metto subito gli occhiali e immediatamente andiamo a fare l'analisi tecnica del mercato. Analisi tecnica che è molto semplice in questo caso perché Bitcoin dopo il minimo del 25 di novembre che è stato fatto a 6.600 dollari ha iniziato una gamba rialzista. Ora il problema è chiederci una cosa fondamentale. Questa gamba rialzista è una gamba rialzista che cambierà il ciclo in corso. badate bene che il ciclo in corso in questo momento è una fase ribassista di un ciclo annuale che è iniziato lo scorso anno appunto, cioè a dicembre, il 15 dicembre del 2018. Questo è un ciclo annuale ragazzi e sta facendo la sua gamba ribassista, quindi la parte di chiusura del ciclo. Ora il problema qual è? Andare a capire quando finisce questo ciclo perché i cicli lunghi come gli annuali durano tanto questa fase qui. È un rialzo consistente o no? Da un punto di vista di trading di breve periodo questa gamba rialzista sembra essere estremamente debole. Però da un punto di vista ciclico questo non è un dramma in quanto nel momento in cui inizia un ciclo che magari può dare molta soddisfazione, quindi molto rialzista, spesso capita che le parti iniziali sono un po' debolucce, ad esempio ragazzi, tipo una cosa del genere. Questi sono dei cicli magari molto forti al rialzo. Al contrario per esempio di quello che è avvenuto qui che ha fatto uno spuntone rialzista molto violento, vedete, ma poi il mercato ha iniziato a lateralizzare e poi a crashare. Quindi esattamente la parte opposta. Da un punto di vista di analisi tecnica comunque ragazzi se non si va al di sopra degli 8.000 che poi è questo livello che ha fatto da tappo, quindi da resistenza importante questo qui, se non si va al di sopra degli 8.000 non cambia niente. Questa gamba rialzista è solo un leggero ritracciamento di un movimento ribassista. Questa gamba rialzista l'unica cosa che indica è un sospiro di sollievo da un punto di vista di analisi tecnica ma deve superare prima gli 8.000 dollari, dopodiché c'è questa super resistenza in questa fascia di prezzo che sono 8.300 dove incontrerà anche la media mobile a 50 periodi, dopodiché c'è la resistenza di medio periodo che è quella a 9.000 e in ogni caso ragazzi guardate bene che un'inversione di medio-lungo si avrebbe solo al di sopra dei 10.000 dollari, quindi è lontanissima la soglia da un punto di vista di analisi tecnica, perciò spostiamoci sulla ciclica che facciamo prima perché è l'unica che può darci un'informazione magari preventiva sul mercato. Il mercato sta facendo negli ultimi più o meno 4-5 mesi sta facendo dei cicli leggermente lunghi, cioè sono due mensili vedete ragazzi, due mensili attaccati insieme. Al momento quello che ha fatto in questo caso è esattamente un mensile piccolino, vedete, che è finito qua, 33 giorni a questo punto se dovesse rispettare quello che sta facendo già da luglio, cioè mensili attaccati due vicino potrebbe benissimo essere in questa fase, in sostanza, cioè di rimbalzo per poi andare a chiudere il ciclo più grande che è questo è un bimensile, chiamiamolo così, sta facendo questi 50-60 giorni vedete, qui ne ha fatti 43 perché era un po' ternario questo era un binario, l'ha fatto da 55 ora ipotizziamo che sia anche questo magari intorno ai 50-55 e potrebbe avere questa conformazione. Ecco da qui il mio grave dubbio e la mia perplessità del perché in questo momento vi sto dicendo che c'è una probabilità che Bitcoin vada a fare un minimo inferiore a 6.600 e questa probabilità va tenuta in considerazione solo, solo superamenti ragazzi di quota 9.000 ma soprattutto magari direi in tardo periodo quindi 9.000 sì qui ma quando? verso metà fine mese di dicembre allora in quel caso mi farebbe desistere da questa ipotesi e direi che questa ipotesi la potremmo abbandonare ma fin tanto che il mercato non ci dà un buona spinta rialzista quindi non inizia a superare gli 8.000, gli 8.300 e questa soia qui magari inizia a testarla è estremamente pericoloso assumere posizioni rialziste in questo caso se non avete delle strategie assolutamente congeniate per fare questo io in questo momento abbiamo fatto una operazione long da qui a qui con uno dei miei trading system il migliore, quello che condivido nella Trading Horn Academy che è un trading system mediterme che sta facendo massimi su massimi e va benissimo ma al di là dell'utilizzo di questi tipi di sistemi di strategie mi sento di dirvi di stare molto attenti dove potremmo andare a finire se il mercato non ci dà un trend long allora questa è un'analisi settimanale di Bitcoin prezzi di Bitstamp non quelli di Bitfinex semplicemente per pulizia ragazzi del grafico niente di che allora dove potremmo andare a finire? questa è l'area ragazzi vedete questa è l'area di prezzo che potremmo raggiungere se questa analisi ciclica venisse rispettata e al momento mi sento di dire che una probabilità c'è e anche secondo me è superiore al 50% quindi magari abbiamo un 55% perciò ragazzi il movimento sarebbe questo qui ok? questo qui quando? quando? metà fine mese di dicembre quindi fra poco ragazzi dovremmo vedere immediatamente debolezza e quant'altro in questo caso avremmo un segnale fortemente negativo il primo è la rottura in close settimanale della media mobile a 50 periodi media mobile che in questo momento funge da supporto per il mercato come vedete ma badate bene che c'è anche un'altra media mobile che il mercato non ha mai rotto questa di bitcoin e più o meno si aggira intorno a questi livelli di prezzo quindi target 5.500 6.000 entro metà fine mese di dicembre è possibile se il mercato non supera proprio molto velocemente di forza di 8.300 e 9.000 dollari entro 10 giorni massimo andiamo a vedere poi anche ethereum e subito bnb perché anche loro vanno a configurare una sinergia con questa analisi allora abbiamo visto la biociclica di ethereum che ci portava a un minimo che vi avevo indicato più o meno in questa fascia lo ha leggermente anticipato anche questo è un sinonimo del fatto che magari il mercato non ha ancora dato tutto alla sua diciamo forza di bassista e potremmo essere magari invece che in un ciclo vedete qui ragazzi questo è un ciclo da 55 adesso potremmo arrivare diciamo a raddoppiare questo ciclo quindi più o meno stare intorno anche qui a metà mese di dicembre quindi in sostanza la biociclica che avevamo già visto la settimana scorsa semplicemente con un'aggiunta magari di un altro pezzettino anche perché il supporto ciclico a 128 non è stato toccato in questo minimo qui ragazzi quindi magari una leggera fase di bassista potrebbe ancora esserci anche su ethereum e ricordiamo che il trend di ethereum è nel medio periodo in questo momento di bassista e questo minimo relativo a 83 fa da spartiacque fra il lungo periodo addirittura quindi siamo in una situazione di attenzione da attenzionare su questi mercati sono sempre molto importanti c'è in ogni caso anche la decelerazione dei minimi la spiego velocemente i minimi di ethereum decelerano non sono molto profondi vedete quindi c'è questo livello di decelerazione l'ho mostrato anche più volte e questo va tenuto in considerazione ma ragazzi se non facciamo massimi e minimi crescenti non cambia nulla in questo momento anche ethereum è trend ribassista binance coin ancora più evidente questa cosa una sinergia che potrebbe unire quindi anche il settore delle criptovalute tra il re che bitcoin la regina che ethereum è quella che secondo me è una coin che indica molto un settore che quello del exchange coin quindi tutti i tutte queste token questi coin che sono legate agli exchange che sono abbastanza utili in questa fase e quindi la tengo molto in considerazione da un punto di vista ciclico sembrerebbe anche qui ragazzi cercare ancora un nuovo mimo perché saremmo in questa famosa ciclo fatto in questa formazione quindi le montagne classiche anche qui l'attesa era intanto per quanto riguarda binance già dalla settimana scorsa intorno al giorno del 5 6 di dicembre ma badate bene che ancora una volta ragazzi ho qui impostato un ciclo a 70 potrebbe essere benissimo 82 come il precedente potrebbe allargare tranquillamente fino a qui o comunque bianca aveva la tendenza anticipare poco poco bitcoin magari potrebbe in effetti ancora una volta anticiparlo anche questa volta cosa sto facendo io sui mercati e come sto agendo in questo momento per prendere le mie posizioni faccio due cose intanto da un punto di vista di lungo e medio periodo utilizzo il mio trading system mid term pubblicato in trading on academy che fa delle operazioni ragazzi di qualche giorno circa 45 giorni a volte prende anche dei trend molto cospicui molto grossi ma va solo long non fa investimenti short e questo perché in questa fase ho deciso di fare così giusto sbagliato ragazzi sono opinioni personali ovviamente non c'è mai un giusto sbagliato nel trading da questo punto di vista però io da un punto di vista personale nel medio periodo seguo quel tipo di trading system da un punto di vista invece di breve periodo sto facendo una serie di analisi operative pubblicate sempre in academy con i ragazzi dell'academy ci confrontiamo costantemente quindi analisi operative ogni giorno le pubblico e indico più o meno qual è l'andamento dei cicli quello giornaliero quello settimanale o addirittura quelli a due giorni quindi quelli veloci per fare trading di natura intraday e nel caso del trading intraday per esempio questa mattina più o meno a 7400 ho preso una posizione short da chiudere in giornata quindi fra poco in sostanza ragazzi però questi sono i miei due modi di agire lo short lo delego solo al trading di breve periodo in questo momento e poi invece nel medio periodo trading system mid term bene per oggi è tutto scrivetemi nei commenti invece come state agendo voi in questa fase e cosa ne pensate di questa view è veramente possibile scendere a 5500 come target sarebbe un natale in rosso ciao a tutti e ci vediamo in settimana col prossimo video